No, perché era una partita difficilissima, su un campo difficilissimo, contro una squadra preparatissima. Mi aspettavo che i ragazzi potessero far bene perché sono cresciuti tanto, però non con questo risultato. Anche se questo risultato è anche figlio di un po' di fortuna, che quella non deve mai mancare. Sono contento per i ragazzi, sono contento per i ragazzi perché è dal primo giorno che sputtano sangue e quindi si meritano queste gioie. Io solo posso aiutarli a metterli bene in campo, però il resto è tutto frutto loro e sono veramente contento per loro. È un risultato che fa ben sperare, però è un risultato che dobbiamo anche stare coi piedi per terra perché già da domani bisogna già pensare alla prossima partita con l'Entella. No, ci penso io, non è un problema quello. Lo sanno già loro, noi dobbiamo creare la nostra mentalità, la nostra mentalità non può dipendere da un risultato qualunque sia, sia in caso di vittoria o sconfitta. Bisogna camminare per la nostra strada che abbiamo tante partite davanti e non possiamo dipendere sia in bene che in negativo da un risultato. Bisogna camminare per la nostra strada che abbiamo tante partite da un risultato.